Bentornati su Sicilia 24, nuova edizione di Spazio Notizia che apriamo parlando di Cronaca a Catania, parliamo dell'arresto di una latitante effettuato dalla Polizia. Tutti i dettagli nel nostro servizio. La Polizia di Stato ha tratto in arresto Antonina Musumeci, ricercata destinataria di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 29 aprile 2022 dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Catania, dovendo espiare la pena di 11 anni di reclusione per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di cocaina e marijuana. Il provvedimento restrittivo definitivo è stato irrogato a esito del processo scaturito dalle indagini coordinate dalla locale direzione distrettuale antimafia ed eseguite dalla squadra mobile di Catania nei confronti della compagine criminale dei Cappello Bonaccorsi, organizzata e promossa da Andrea Cambria, il quale il 17 marzo 2016 era stato tratto in arresto nell'ambito dell'operazione denominata Family. All'indomani della sentenza definitiva di condanna, a suo carico Antonina Musumeci aveva fatto perdere le proprie tracce rendendosi irreperibile. Le successive investigazioni, svolte dalla sezione Criminalità Organizzata, squadra catturandi della squadra mobile di Catania, su delega della locale Procura Generale, hanno consentito di individuare e catturare la suddetta lo scorso 9 giugno nel rione San Cristoforo all'interno dell'abitazione di un familiare. Pertanto, espletate le formalità di rito, la donna è stata tradotta presso la casa circondariale Pagliarelli di Palermo. E torniamo a occuparci del dramma di Masca Lucia e il delitto della piccola Elena. L'avvocato Gabriele Celesti, uscendo dal carcere di Piazza Lanza a Catania, dove si era recato per incontrare la sua assistita Martina Patti, ha rilasciato alcune dichiarazioni. La mia cliente ha detto sta bene, ma non ho potuto incontrarla perché è in isolamento fiduciario per le norme anti-Covid. Troveremo il modo di parlare, le farò una videochiamata. La signora ha già fatto dichiarazioni, ma non so se ha qualcosa da aggiungere. Questo lo approfondiremo e lo valuteremo. Se lei vorrà colmare alcuni buchi, ha aggiunto l'avvocato, allora farà dichiarazioni aggiuntive, ma potrebbe scegliere di non farle in questa fase e le farà più avanti. Valuteremo non appena avrò la possibilità di interloquire con lei. Queste dunque le parole dell'avvocato Gabriele Celesti, legale di Martina Patti, la donna che ha ucciso la piccola Elena. Ed ora una notizia da Siracusa. Continuiamo a parlare di cronaca. Agenti delle volanti, coadiubati da personale di una ditta di vigilanza, sono riusciti a sventare il furto di circa 200 litri di carburante di proprietà di una nota ditta di autotrasporti. L'azione di vigilanza, intensificata nelle ultime settimane, ha consentito di prevenire il furto di ben sette taniche di gasolio che si trovavano nel piazzale di un distributore di carburanti a disposizione della ditta di trasporti. Il tempestivo arrivo della polizia ha messo in fuga i ladri che non sono riusciti a impossessarsi del carburante. Ed ora invece parliamo di una importante operazione antimafia, inflitto un duro colpo al clan Santa Paola Ercolano 56, le misure cautelari emesse. Vediamo il servizio. Su delega della procura distrettuale, i carabinieri del ROS e del comando provinciale di Siracusa hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Catania, su richiesta della direzione distrettuale antimafia, a carico di 56 soggetti ritenuti essere affiliati o contigui alla famiglia mafiosa Santa Paola Ercolano, alla famiglia di Caltagirone, a quella di Ramacca e al clan Nardo di Lentini. I soggetti tratti in arresto sono gravemente indiziati dei delitti di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico e allo smercio di stupefacenti, nonché di numerose estorsioni pluriaggravate, di illecita concorrenza, di turbata libertà degli incanti e di trasferimento fraudolento di beni, reati tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Contestualmente è stato notificato anche un decreto di sequestro preventivo di beni, nove società attive nei settori dell'edilizia, della logistica e dei servizi cimiteriali, nonché beni e conti correnti a esseri conducibili, per un valore di oltre 10 milioni di euro. Le indagini hanno svelato le criticità, i nuovi rapporti di forza e gli equilibri raggiunti tra le famiglie di Cosa Nostra operanti nei territori di Catania, Caltagirone e Siracusa e segnatamente la famiglia Santa Paola Ercolano, la famiglia Larocca, la famiglia di Ramacca e il clan Nardo. È stata documentata la riorganizzazione interprovinciale del sodalizio mafioso che è riuscito a mantenere l'operatività nei tradizionali settori delle estorsioni, del recupero crediti e della cessione di stupefacenti. È stata anche accertata la capacità dei clan di infiltrarsi nell'economia lecita, nel settore dei trasporti su gomma e in quello dell'edilizia e di influenzare i processi decisionali degli enti locali, come nell'ipotesi dell'alterazione delle procedure per l'affidamento dei servizi cimiteriali nel comune di Vizzini e nelle ipotesi degli affidamenti per la manutenzione stradale curati dal comune di Caltagirone. Gli accertamenti hanno portato a identificare gli elementi di maggior peso dell'organizzazione e a ricostruire al contempo la rete di relazioni e la struttura della famiglia Santa Paola Ercolano di quella Larocca di Caltagirone, quella di Ramacca e del clan Nardo. L'attività investigativa ha dimostrato come i sodali, oggi destinatari di misura restrittiva, mantenessero attiva la propria rete di controllo su diversi settori economici e sociali, operando mirate estorsioni cui ricavi erano da dividere in base a precisi accordi e sulla base dello spessore della famiglia destinataria. Torniamo a Siracusa dove gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un uomo di 62 anni per porto illegale di armi e per aver minacciato con due pistole un collega dell'istituto di credito presso cui lavora. Un 62enne sotto l'effetto di alcol era entrato presso la filiale della banca minacciando con due pistole legalmente detenute ma per le quali non aveva il porto un collega accusato di non aver facilitato una linea di credito che lo stesso aveva richiesto. Da una perquisizione domiciliare a casa dell'uomo gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato altre armi tra le quali un fucile da caccia, un taser, una carabina e numerosissimo munizionamento di vario calibro. Il 62enne è stato condotto in carcere. Ed ora ci spostiamo virtualmente a Partanna, continuiamo ancora a parlare di cronaca. I carabinieri della locale stazione hanno arrestato per l'ipotesi di reato di furto aggravato un uomo e una donna del posto rispettivamente di 50 e 44 anni per cettori tra l'altro del reddito di cittadinanza. I militari con la collaborazione di personale specializzato della società distribuente hanno condotto degli accertamenti per verificare delle presunte anomalie di consumi elettrici relativi ai contatori asserviti ad alcune abitazioni di Partanna. Presso due edifici privati i contatori e i circuiti elettrici ad essi collegati sarebbero stati alterati e danneggiati in modo da creare un allaccio abusivo che prelevava energia direttamente dalla rete pubblica. Sia l'uomo che la donna sono stati quindi dichiarati in arresto. Torniamo invece a Catania dove la polizia di Stato ha arrestato un catanese per evasione, resistenza, oltraggio e false attestazioni a pubblico ufficiale. Gli agenti hanno controllato un soggetto alla guida di un motociclo il quale con un bambino a bordo messo davanti con la faccia a ridosso del manubrio ed entrambi senza casco a gran velocità percorreva la via pubblica andando a zigzag. I poliziotti con fare discreto hanno fermato il conducente il quale omettendo di dire che era il padre del bimbo ed era evaso dagli arresti domiciliari ha opposto resistenza oltraggiando i poliziotti e dando false generalità quelle di un suo parente defunto. Nel frattempo è giunta la madre del minorenne alla quale è stato affidato il bambino. La donna, indagata per oltraggio a pubblico ufficiale per favoreggiamento personale, al fine di aiutare il marito ha dichiarato falsamente che l'uomo era un parente esibendo una copia della patente di guida in realtà del citato defunto. I poliziotti insospettiti da tali atteggiamenti si sono recati presso la locale polizia scientifica dove hanno scoperto tutto. Pertanto l'uomo è stato tratto in arresto mentre la donna è stata indagata per i sui indicati reati e il ciclomotore è stato ovviamente sottoposto a sequestro. Restiamo nella catanese, ci spostiamo però a Sant'Agata, lì Battiati, dove i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un catanese di 49 anni gravemente indiziato di furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. I militari sono intervenuti nella mattinata a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino il quale aveva notato un uomo intento ad armeggiare disteso sotto un'autovettura in sosta in via Giacomo Leopardi. La tempestività dell'intervento ha permesso ai carabinieri di individuare e bloccare il catanese e di constatare che dal veicolo era stato asportato il catalizzatore mediante l'utilizzo di una smerigliatrice. Lo stesso, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di diversi elettroutensili, attrezzi e chiavi di vario genere, tutto sottoposto a sequestro. Il sopralluogo effettuato e gli accertamenti eseguiti hanno consentito di rinvenire il veicolo utilizzato dall'uomo per raggiungere via Leopardi, risultato provento di furto commesso in provincia di Catanzaro qualche giorno prima. Inoltre è stato constatato che lo stesso uomo era sottoposto alla misura della libertà controllata che sarebbe terminata alla successiva mezzanotte. Inoltre invece ad Enna per parlare di controlli, nello specifico di controlli nei cantieri edili effettuati dal comando provinciale dei carabinieri in collaborazione con i militari del nucleo ispettorato del lavoro di Enna. Hanno riscontrato varie irregolarità in questi cantieri sia in merito al fenomeno del lavoro nero che delle violazioni di norme poste a evitare gli infortuni sul lavoro. Sono stati controllati sette cantieri ed effettuati anche i controlli di competenza sui professionisti che assistono le imprese. Sono stati scoperti cinque lavoratori nero, compresi due minori di nazionalità extracomunitaria e accertate violazioni in materia della sicurezza del lavoro anche gravi, contestate numerose ammende penali e denunciati imprenditori e professionisti. Sono state irrogate ammende penali per oltre 168 mila euro e sanzioni amministrative per oltre 57 mila euro. Inoltre sono state deferite alla procura della Repubblica di Enna nove persone e sono state impartite sei sospensioni di attività imprenditoriale. Adesso invece a Real Monte continuiamo a parlare di controlli, in questo caso però controlli all'interno di un supermercato, controlli effettuati dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro della Comando Provinciale di Agrigento nell'ambito dell'attività di verifica della sicurezza sui luoghi di lavoro e del contrasto al lavoro nero. Come detto è stato effettuato un controllo all'interno di un supermercato di Real Monte nell'Agrigentino riscontrando la presenza di quattro lavoratori nero su cinque presenti. L'attività imprenditoriale è stata quindi sospesa mentre al titolare sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 17 mila 620 euro. Ed ora parliamo di politica con una notizia importante. Da Messina Federico Basile è stato proclamato sindaco di Messina. Il neo primo cittadino ha barcato la porta di Palazzo Zanca insieme all'ex sindaco Cateno De Luca. Entro in punta di piedi come ho sempre fatto, ha dichiarato, ma con grande voglia e determinazione e ringrazio i cittadini per avermi dato questa possibilità. Sono molto emozionato ma cerco di non esternare i miei sentimenti per me è una nuova esperienza con un ruolo diverso rispetto a prima quando ero direttore generale. Il mio primo atto sarà la rimodulazione del piano di riequilibrio fermo da febbraio. La continuità è l'elemento che ci ha fatto avere un'ampia maggioranza e grazie a questo proseguiremo ad attuare il cambiamento. E a proposito di De Luca e di Basile vi mostriamo questo post Facebook dal profilo di Cateno De Luca. Eccolo qua, lo vedete? Adesso vi mostreremo anche le foto. Andiamo intanto a leggere il contenuto della post. Anche Vittorio Sgarbi con noi per un progetto politico amministrativo innovativo per la Sicilia e l'Italia. Io sindaco di Sicilia e Vittorio ministro della cultura. Il meridione è al centro di un nuovo rinascimento del sistema Italia. Messina con Federico Basile sindaco in antisegnana del progetto. Vedete adesso vi mostriamo anche queste foto dell'incontro appunto tra Sgarbi, Cateno De Luca e Basile con questo intento. Come detto da parte di De Luca che lo ricordiamo adesso è candidato alle elezioni regionali. Restiamo sui social ma ci spostiamo sul profilo Facebook di Matteo Salvini. Vi mostriamo questa foto. Vedete Salvini in compagnia del nuovo sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Felice, scrive il leader della Lega, di aver incontrato Roberto Lagalla, nuovo sindaco di Palermo. Dopo la vittoria a lui auguro un buon lavoro dove il centrodestra si presenta unito contro le sinistre vince. Domani a Palermo sarò nuovamente a processo per aver difeso da ministro la sicurezza degli italiani mettendo in gioco con anima e cuore tutto me stesso. E questa come vedete la foto di Matteo Salvini in compagnia del nuovo sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Adesso invece andiamo a vedere i dati dell'ultimo bollettino Covid, dunque dati aggiornati da parte del Ministero della Salute. Sono 2.878 nuovi casi di Covid registrati a fronte di 16.285 tamponi processati in Sicilia. Tasso di positività al 17,6% e Sicilia adesso al sesto posto in Italia per numero di nuovi contagi. Gli attuali positivi sono 47.160, i guariti invece 3.450. Si registrano purtroppo altre 10 vittime. Il conto totale dei decessi in Sicilia dall'inizio della pandemia sale così a 11.101. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 583, tre in meno rispetto al giorno precedente. In terapia intensiva ci sono 25 persone, una in più rispetto al giorno prima. A livello provinciale Palermo nuovamente la provincia con il maggior numero di nuovi casi, 1.064, poi Catania con 914, Siracusa con 299, Messina con 287 nuovi casi Covid e poi le altre province con dati decisamente più bassi. Adesso invece ci spostiamo ad Alcamo per la precisione nel castello di Alcamo per andare a sentire le dichiarazioni del Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a margine dell'evento Borsa della Ricerca. Oggi al centro della nostra attenzione c'è l'impresa, c'è l'azienda, l'unica vera fonte di ricchezza per il territorio. Basta assistenzialismo, basta contributi a pioggia improduttivi. Solo sul fronte dell'innovazione e della ricerca la Regione Siciliana in questi 4 anni ha impegnato 289 milioni che hanno raggiunto oltre 900 imprese, segno evidente che il metodo è cambiato. I giovani hanno bisogno di formazione, chi ha talento ha bisogno di applicarlo nella ricerca e nella innovazione, le imprese hanno bisogno di diventare competitive. Oggi siamo la prima Regione in Italia per il biologico e l'agricoltura, siamo fra le prime tre per esportazione di agroalimentare, siamo la prima in Italia per investimenti sulla banda larga, siamo la prima Regione in Italia per spese contro il dissesto idrogeologico e la erosione costiera. Abbiamo un tasso di disoccupazione che ci portiamo dietro da 40 anni, risolvere i problemi in 5 anni mi pare tannicchia difficile, però riuscire a poter cambiare come abbiamo fatto la tendenza ci consente di guardare al futuro con un minimo ottimismo. Poi naturalmente ringrazio l'assessore Turano per l'impegno che ha profuso in questi 4 anni, alla guida delle attività produttive e se siamo qui ad Alcamo è proprio perché vogliamo consacrare questo ulteriore passo avanti che diventa uno degli obiettivi prioritari del governo che ho l'onere di guidare. E chiudiamo parlando di un'altra importante iniziativa nell'ambito delle celebrazioni del quarantesimo anniversario dell'assassinio del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, alla biblioteca centrale della regione siciliana è stata inaugurata la mostra fotografica e documentale dedicata al prefetto di Palermo ucciso dalla mafia il 3 settembre del 1982. La mostra è stata inaugurata la presenza del comandante della legione carabinieri Sicilia, generale di brigata Rosario Castello, del prefetto di Palermo Giuseppe Forlani, del direttore della biblioteca centrale Carlo Pastena e dell'assessore ai beni culturali della regione siciliana Alberto Samonà. E con questa notizia ci fermiamo, chiudiamo quindi questa edizione di Spazio Notizia ma ovviamente l'informazione continua su Sicilia 24.